La vita è una questione di equilibrio tra il dare e l'avere. E le foreste ci danno così tanto. Purificano la nostra acqua. Puriscono la nostra aria. Combattono il cambiamento climatico catturando il carbonio. Ci danno cibo e medicine. E migliorano il nostro benessere. Però le nostre foreste sono vulnerabili. Sono insidiate dagli incendi, dai parassiti, dalla siccità e da altre minacce. Ecco perché dobbiamo prenderci cura di loro. Dobbiamo dare e non solo prendere. Foreste sane per persone sane. Grazie. Grazie.